1, 2, 3, go! Allora, la notizia è che non siamo a 10.000 iscritti! Ma come non siamo a 10.000 iscritti? La notizia è che c'è questo personaggio qui Che sono tornato, più o meno Molti di voi sanno chi è Sapete chi è lui? No, non lo sanno Eccolo quello che c'era all'inizio del canale Quando erano 0 iscritti Adesso quasi, cioè sono 9.800 e passa Però tra poco arriveranno a 10.000 Ci sono persone che passano dietro di noi Allora, la realtà è che noi siamo qua Il titolo è speciale 10.000 iscritti con su FIFA 16 Perché? Perché ormai È solo FIFA 16 Esatto, ormai il canale è diventato solo di FIFA 16 Quindi noi siamo qua per dirvi semplicemente una cosa Allora, lui non tornerà mai nella vita Mai, mai Io sto bene così Non gliene mai fregato nulla Mi divertio Forse qualche volta in qualche video così Potrei risbloccare fuori Però non ha intenzione proprio perché Molti mi hanno chiesto Come mai Colo non scriveva mai Come mai Colo non interveniva mai Ma dove? Nei commenti? Sì, sì, sì Io non rispondo e non scrivo i commenti Esatto, non lo fa nemmeno Non lo faccio neanche quando mi scrive lui Esatto, non mi scrive Esatto, quindi la realtà è che noi non siamo litigati Come dite voi con il vostro gergo Mi suona anche il telefono perché sono tanto per ricercare Esatto, perché lui non risponde No, dai, tagliamo corto La realtà è che noi siamo qua per fare questo video Per dirvi che lo speciale 10.000 iscritti È dedicato a una nuova carriera allenatore con Con la squadra che sceglierete voi Allora, ci sono state le selezioni Vedete, lui non sa un cazzo Ci sono state le selezioni Sulla pagina Facebook Piquadro Quindi tu di quello che facevi sempre Iscrivetevi alla pagina Facebook Piquadro Mettetevi piace E io facevo questo E lui faceva questo No, io vi sto dicendo questa cosa semplicemente Ci sono state le selezioni per i vari campionati Quindi campionato con Liga in Francia Bundesliga in Germania La Liga in Spagna La Premier League in Inghilterra E una squadra appartenente a qualsiasi altro campionato Europeo, mondiale che sia L'ho fatta scegliere a voi Allora, le 5 squadre che sono uscite da questo Da questa selezione Che non è la selezione naturale Perché hanno scritto Alcuni mi hanno scritto Perché non fai la carriera con l'Inter? E beh È una bella domanda Immenso personaggio che non sei altro Sono due anni che faccio carriere con l'Inter Perché dovrei farne un'altra? Perché? Perché non c'è il 2 senza il 3 Perché? Vabbè, fa niente Ok Allora, parliamo delle squadre Allora, sono 5 le squadre E partiamo dalla prima La prima è L'Ajax La prima è l'Ajax La squadra Il profumo No, era il profilattico bucato Il profilattico bucato Lui la chiamava Il profilattico bucato La squadra del profilattico bucato Non so il perché Però ok Non me lo ricordo Allora, l'Ajax potrebbe essere Una Adesso è diventato un profumo Una prossima carriera appartenente a questo canale Quindi se volete vedere l'Ajax Scrivete qui sotto Hashtag P quadro 10.000 Due punti Ajax Oppure Come cazzo l'hai detto? Sì, no, dovevo dirlo proprio È proprio cattivo Sì, sì, sì E quindi niente Io vi dico semplicemente che L'Ajax Sai qualche giocatore dell'Ajax? C'è un trattore C'è un trattore Il trattore probabilmente No, è una ruspa È gigantesca Sono ruspa Sono grandi Va bene, ok No, c'è Buzz C'è Buzzware Ce ne sono tanti Ce ne sono tanti Vabbè, ci sono tanti giovani Quindi se volete l'Ajax Scrivete qui sotto Quello che hai detto prima Quello che hai detto prima Non so voglio di ripeterlo Non penso neanche a me È hashtag P quadro 10.000 Due punti Ajax Ajax Va bene Altrimenti Se volete un'altra squadra Potete scegliere il Borussia Dortmund Squadra di Germania Ok? Sì C'è dentro C'è dentro Kagawa 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 era il mio preferito Kagawa C'è dentro Kagawa Ma c'è dentro anche Gudogan Ricola Savino No, no Umes No, Umes mi stava sul cazzo Ma Umes era forte Eh, ma mi stava sul cazzo Vabbè C'è dentro Aubame Young No, è andato al Bayern È andato al Bayern C'è dentro Aubame Young Quindi se volete Se volete Il Borussia Scrivete qui sotto Borussia Dortmund Sempre con l'hashtag Cazzi e mazze La terza è il Manchester United Con dentro Messi No Rooney Rooney C'è dentro Rooney Guardate Luis Il calcio C'è nel cuore Nel culo C'è il calcio Quello che gli darò io E quindi C'è Rooney Rooney ce l'avevo anche FIFA 15 Ok C'è Rooney Lo ricordo C'è Martial C'è Gian Usai Guarda Sveinsteiger È andato al Sveinsteiger invece Era Era il Bayern Monaco È andato al Manchester United Anche Sveinsteiger Ma sempre Perché è lento Ok Va bene Quindi Questa è la terza Se volete Votarla Scrivetela qui sotto Sempre al solito Hashtag Con Manchester United Perché Perché è importante Allora La quarta La quarta Appartiene alla Liga Ed è L'Atletico Madrid Avete scelto L'Atletico Madrid Ronaldo No Griezmann Griezmann Va bene Chi è che ti posso dire Ancora Ti posso dire Godin 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 Che era forte Tre difensori Ok Questo è l'Atletico Madrid Poi Scriverlo sotto Nei commenti Guardate Lo stai dicendo Lui sta diventando Pure bravo Perfettissimo Poi L'ultima squadra L'ultima squadra Non per Per importanza È il Lione La quinta squadra È il Lione Forse per importanza Perché c'è la KZ Sì solo per quello C'è anche Un Titi E chi cazzo è E la KZ E la KZ E ce ne sono anche altri Ovviamente Però Allora Il Lione Non scegliete A lui non piace Il Lione Però In ogni caso La squadra di Gundogan Borussia Quello che abbiamo fatto L'anno scorso L'anno scorso abbiamo fatto Il Borussia E loro vogliono ancora Il Borussia Siete che sono affezionati Non lo so Comunque c'è il Borussia Allora Ricapitolando Sono 5 le squadre Ajax Borussia Dortmund Manchester United Atletico Madrid E Lione Lione Sono 5 le squadre Scrivete qui sotto Con l'hashtag Che desiderate Al raggiungimento Di 10.000 iscritti Ci sarà questa nuova Carriera allenatore Nel canale Ma soprattutto Perché ce ne ha poche Di carriera allenatore Sì Siccome sono poche Una in più No La realtà è che Questa carriera allenatore Sarà molto molto particolare Sarà una carriera allenatore Che non avete mai visto Su Youtube Io ho delle buonissime idee Ho delle Scelte Alternative Ho Delle novità Da farvi vedere C'è il X Factor Sì ce l'ho C'ho l'X Factor Come te sul culo Dopo quando ti dino il calcio Quindi Allora Mi raccomando Scrivete qui sotto Mi raccomando Con l'hashtag Avete L'hashtag è P410.000 Due punti La squadra Quindi E tutti adesso dovete scrivere La squadra La squadra No no Che poi non lo scrivono veramente No Allora Quindi concludo qua Io vi ringrazio Ringrazio anche Colo Che ha partecipato A questo video Che è uno speciale Che però non è uno speciale Però Una cosa Perché non la fai con l'Inter? Perché con l'Inter La sto già facendo Sono all'episodio Sono più avanti ragazzi Perché sto registrando I prossimi episodi Quindi Mi raccomando Seguitele E commentate di brutto Quindi Noi vi aspettiamo Anzi Io vi aspetto alla prossima Lui vi aspetta Io vi saluto Vi aspetta Non lo so dove Dove vi aspetti Lui vi aspetta La fermata del pullman E quindi Grazie mille a tutti E Alla prossima Un saluto Al prossimo episodio Di FIFA Ciao Ciao Cos'è sta faccia?